Se pensi al CAG, cosa ti viene in mente o immagina un ricordo? Mi viene in mente l'esperienza di quest'anno fatta a Riccione. È stata, secondo me, un'esperienza bellissima. E basta. È perché ho incontrato nuovi amici e poi mi sono divertito in generale, uscendo la sera, andando in spiaggia, la laura che sfollava. Un aggettivo o un nome che secondo te simboleggia il CAG e perché? È sicuramente carismatico. Il CAG ti può aiutare in tutti i sensi. Il CAG nel 2036 come lo immagini? Il CAG nel 2036 penso che man mano si va avanti con gli anni e speriamo che migliori in tutti i sensi. Ciao e basta. Ciao e basta.